Allora insomma veniamo da settimane soprattutto il mese di giugno che sta dando un nuovo ottimismo un po' tutto al mercato e soprattutto sembra che alla fine un effetto collaterale positivo di questa pandemia sia che l'estate un po' sotto silenzio magari si sta annullando questa voragine che c'era di solito nei mesi estivi quindi almeno quest'anno stanno uscendo e usciranno ancora tanti film nella prossima estate Sì sì hai ragione, sicuramente stiamo vedendo dei segnali veramente incoraggianti in particolar modo quest'anno maggio e giugno sono stati i primi due anni da che siamo ripartiti post pandemia che hanno superato l'equivalente mese, la media dell'equivalente mese del 2017-2019 maggio più 4%, giugno più 18% quindi sono sicuramente dei segnali molto incoraggianti insomma si può tornare con i film giusti ai livelli pre-pandemici appunto noi in particolar modo insomma siamo molto soddisfatti abbiamo incassato 30 milioni di euro tra maggio e giugno tra il Guardia della Galassia, la Sirenetta lo stesso elemento dell'Indiana Jones che sono al momento ancora in piena programmazione quindi traiamo la forza insomma sperando che questo gap che ancora un po' c'è con il pre-pandemia che siamo a meno 27 adesso rispetto sempre alla media 17-19 comunque è un gap che si sta pian piano riducendo quindi speriamo di continuare mi sembra che ci siano comunque titoli forti in arrivo un po' da tutti perché chiaramente serve il contributo di tutti quindi speriamo dai A proposito dei titoli forti insomma ci dici un po' Walt Disney ormai è comunque un cappello no? Sempre più gli ultiani che contiene come dire realtà ed anime complementari e diverse che fanno sì che poi il listino sia variegato no? Certo Ci dici un po' nelle varie anime quello che avete presentato qui a Riccione? Sì, beh siamo partiti chiaramente siamo andati un po' in ordine cronologico con qualche poi accorpamento per studio comunque primo film che uscirà sempre in estate il 23 agosto La casa dei fantasmi ispirato alla famosissima proprio storica attrazione dei parchi Disney Haunted Mansion è un film molto divertente pieno di effetti speciali veramente un tempo si diceva per grandi e piccini ha un ottimo cast c'è Rosario Dawson, c'è Jamie Lee Curtis che ha appena vinto l'Oscar come migliore attrice non protagonista ritorna Danny DeVito, Owen Wilson quindi un film che secondo me è perfetto per quella data così del back to school e successivamente avremo a settembre Assassini a Venezia il terzo della saga diciamo di Poirot di Kenneth Branagh anche qui abbiamo un gran cast con Michelle Yeoh anche lei appena vincitrice dell'Oscar sempre per Everything Everywhere All At Once lo scorso marzo c'è Riccardo Scamarcio c'è Jamie Dornan insomma il solito cast nutrito un thriller sempre in stile Agatha Christie ambientato a Venezia il che non fa male il 28 settembre abbiamo creator di un regista che io trovo personalmente molto interessante soprattutto visivamente come Gareth Edwards che ha diretto uno dei film più apprezzati di Star Wars diciamo dello Star Wars recente che è Rogue One proprio come dicevi varietà di titoli abbiamo film di Lantimos povere creature insomma molto visionario sempre molto particolare anche qui Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe quindi parliamo di cast insomma di un certo prestigio The Marvels all'8 di novembre tutti i titoli Marvel per ora hanno performato al di sopra del capitolo precedente da Ant-Man a Guardiani della Galassia allo stesso Black Panther a novembre speriamo di continuare così e arriveremo poi a dicembre con un titolo che sembra proprio perfetto per il Natale Wish, il cartone del centenario che celebrerà un po' tutta la magia Disney di questi cent'anni con tutti gli elementi che in Italia di solito proprio si connettono con il pubblico le canzoni, la magia, le principesse quindi insomma ecco diciamo un titolo da cui ci aspettiamo molto e poi arriveremo a un 2024 avremo titoli molto interessanti da Chi segna vincere di Taika Waititi poi vedremo Biancaneve Pinata delle scimmie Inside Out 2 Mufasa e così via per arrivare poi alla fine Grazie 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 Grazie